I ragazzi qui a Belpiano sono 15, arrivano quasi tutti da Mali a parte un paio, due o tre dalla costa d'Avorio. Qui a Belpiano in questo momento fanno alcune attività, sono impegnati con il comune di Borzonasca per l'agricasta e stanno aspettando di trovare un lavoro. Del loro viaggio da Mali o dalla costa d'Avorio in Libia mi hanno raccontato alcune delle storie terribili, tra cui uno ha perso i genitori durante il viaggio, un altro appena partito ha visto affondare la madre in un altro barcone e alcuni hanno avuto delle vicende erano militari, poi si sono trasferiti nella resistenza durante la guerra civile. Insomma hanno vissuto delle storie molto dure, molto tristi e sono venuti qua per cercare speranza. Io mi chiamo Doutri Konate e sono venuti in Italia per lavorare. Mi chiamo Moussa Sissoko, io cerco il papi e se vende il papi, io voglio lavorare in Italia, io voglio lavorare in Italia per migliare. Io cerco il documento e quando ho ricevuto il documento, io voglio lavorare in Italia. C'è il mio padre, io ho fatto il mio padre, io voglio lavorare in Italia, io voglio lavorare in Italia. Io ho fatto il mio padre, io ho fatto il mio padre, io ho fatto il mio padre. Io ho fatto il mio padre, io ho fatto il mio padre, io ho fatto il mio padre. Italia 1